Ciao a tutti ragazzi qui come sempre il vostro Ara e benvenuti in questo nuovo video ragazzi in cui vedremo un grande ritorno ve lo ricordate quando mi ero dato alla stampa 3d e avevo progettato i miei capelli del Goku Super Saiyan di secondo livello bene se non ve lo ricordate l'avevo fatto ovviamente e adesso avevo abbandonato in realtà avevo accantonato il fatto della stampa 3d perché mi ero accorto che la stampante che avevo non era al livello che io desideravo non riusciva o meglio riuscivasi a stampare le cose ma per diciamo aggiustarle per renderle perfette ci voleva veramente una vita un lavoro assurdo che non valeva assolutamente la pena adesso ho preso una nuova stampante e ci risiamo ci risiamo posso di nuovo realizzare i capelli del Goku Super Saiyan di secondo livello questo qui è un prototipo appunto che ho stampato vedete senza colore come vedete è perfetto non ha un singolo difetto chiaramente qui ci sono questi piccoli spazietti bianchi perché però verrebbero coperti chiaramente dall'eventuale colore quindi ragazzi scusate se ho le mani ancora un po' di colore ma ho finito adesso di dipingere quei capelli che vedremo tra poco quindi ho prodotto di nuovo questi capelli per il Goku Super Saiyan di secondo livello che vanno su qualsiasi Goku in realtà e quindi ragazzi questa volta ho utilizzato il Goku Super Hero quello che vedete è il corpo del Goku Super Hero come vedete ho ripreso a stampare un po' di cose le mie famosissime articolazioni per i 5 samurai le ho migliorate tra l'altro e non poteva mancare la testa di Batman che è questa super precisa ragazzi ho già realizzato una testa colorata questa qui in realtà ha un po' di difetti perché era una delle prime stampe dovevo aggiustare dei settaggi ma quella finale non avrà alcun difetto l'ho già quasi dipinta in realtà allora passiamo al nostro Goku Super Saiyan di secondo livello è uscito quello Bandai Event Exclusive prezzo proibitivo per molti e lo capisco bene anche se lo potete trovare ancora in vendita sul mio sito le copie stanno arrivando chiaramente farò anche la recensione quando arriverà vi consiglio di prenotarlo se lo volete ragazzi quello perché le copie stanno veramente finendo si contano sulle dita di una mano allora questo qui il corpo del Goku Super Hero chiaramente nulla di nuovo quello che c'è di nuovo sono i capelli del Goku di secondo livello appunto che sono il mio vecchio scaldo appunto quello che avevo realizzato che era venuto abbastanza bene devo dire la verità solo che appunto la stampante non era in grado di far uscire alla perfezione far uscire come volevo e quindi invece adesso la stampante ce la fa perfettamente poi ho dato questa colorazione che non avevo mai dato Super Saiyan di secondo livello chiaramente si può scegliere la colorazione il giallo che volete un giallo più scuro l'arancio con le sfumature eccetera eccetera a me sapete che piace un sacco questa colorazione di questo giallo chiarissimo che ha il Super Saiyan nell'anime e in realtà anche nel manga il Goku Super Hero si presta molto bene perché ha questo viso sorridente a cui ho aggiunto anche la rughetta questa non c'è e quindi tipico del Super Saiyan di secondo livello e non solo neanche un altro anche quest'altro viso sorridente sempre tipico del Super Saiyan di secondo livello con anche questa rughetta aggiunta da me chiaramente ragazzi la testa è intercambiabile quindi se uno ha preso il Goku Super Hero e vuole inserire questa testa può farlo ma può anche inserire la testa del Goku normale quindi c'è un sacco di possibilità per posare la nostra figura tra l'altro questa testa è sempre magnifica volendo si potrebbe anche dipingere anche questa per utilizzarla per il Super Saiyan di secondo livello però ho preferito in realtà lasciare questa scelta ovvero un po' divisi, un paio divisi per la testa del Super Saiyan di secondo livello e un altro paio invece per la testa del Goku normal così si possono avere entrambe le versioni senza problemi fatemi sapere un po' cosa ne pensate in realtà secondo me questo corpo si presta molto bene per questo Super Saiyan di secondo livello molto particolare come viene fuori anche perché mi piace un sacco che ha le sfumature qui c'è un bel contrasto di colore insomma chiaramente si può anche rimuovere questa cintura si può mettere la fasciona senza queste due fasce si può rimuovere il logo anche qui sulla schiena per avere diciamo il Super Saiyan 2 perfetto e questa è semplicemente una versione che ho provato a fare senza modificare il corpo per lasciarlo così com'è e devo dire che non mi dispiace affatto ragazzi mi convince veramente tanto questo Super Saiyan 2 soprattutto con questo viso in particolare e anche la colorazione questo giallo chiaro per il Super Saiyan di secondo livello secondo me ci sta a pennello ora ragazzi fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa nuova versione del mio Goku Super Saiyan di secondo livello su questo Goku Super Hero lasciatemi un commento qui sotto se siete interessati ragazzi a acquistare anche solo la testa questa qui senza che venga dipinta contattatemi perché posso realizzare anche questa chiaramente costa molto meno senza che io la dipinga che dipinga per esempio i visi di Goku avere solo la testa fatemi sapere insomma ragazzi il commento qui sotto è sempre grandissimo così come anche la condivisione il like al video ovviamente noi ci vediamo alla prossima grazie a tutti per la visione ciao Dara dal mio Goku Super Saiyan di secondo livello collezionate sempre